una nuova ricetta di tart che voglio proporvi questa volta è grazie alle ultime fragole che lo stupendo ottobre che c'è stato e novembre ci ha regalato le ultime fragole dell'orto ho realizzato una tarta base di gelè di fragole per realizzare la tarta a cacao il procedimento è sempre il solito perché si parte da una base di sablè al cacao quindi non basterà basterà altro che unire tutti gli ingredienti insieme stendere la nostra sablè aspettare che si freddi bene poi andare a copparla e poi andare a cuocerla a 180 gradi per una decina di minuti e poi tempo di preparare la nostra gelè di fragole questa si prepara andando a tagliuzzare bene le fragole mettendole in una padella con lo zucchero ovviamente dopo averle lavate bene a questo punto dobbiamo aspettare che cuocendo queste vadano a rilasciare tutto il loro succo quando sono ancora calde aggiungiamo la gelatina che si scioglierà e a quel punto andiamo a frullare il tutto con un mini pimer siamo pronti per metterla da parte e poi utilizzarla quando è tiepida per assemblare dobbiamo prendere la nostra base di sablè al cacao aggiungere fino all'orlo le di fragole e poi andare ad aspettare che questa si vada a compattare in frigo fatto ciò poi alla fine andiamo a decorare con crema al mascarpone creata semplicemente andando a montare il mascarpone con lo zucchero a velo siamo pronti quindi per servire la nostra tarte vediamo come prepararla ciao 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 vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricerca ciao